Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel ventesimo appuntamento con la nostra Master League, con la nostra Roma, scusatemi. Signori, io sono Maullo e oggi andiamo avanti, signori, nella rincorsa al secondo posto. In questo momento io ho provato dalla Fiorentina, che ci garantirebbe la promozione in prima divisione. Detto così, signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giudizi e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti e senza il vostro aiuto, signori, io non ci posso arrivare, quindi vi ringrazio già in anticipo. Altra piccola cosa, signori, io sto registrando questo episodio subito dopo quello di ieri, quindi non ho il tempo di leggere i commenti che mi avete lasciato, ma continuate a lasciarmi, signori, perché io poi li leggerò e nei prossimi video li metterò in atto. Quindi se avete giocatori da suggerirmi o qualsiasi tipo di consiglio, vi ringrazio in anticipo. Detto questo, non perdiamo tempo, signori, procediamo alla partita di oggi e scendiamo in campo. Allora, cosa ci aspetta oggi? Non lo so, signori, non lo so, ma l'obiettivo è quello di portarci a casa tre punti. Andiamo a cambiare la formazione, rimettiamo la formazione dello scorso video, cambia, utente, 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 non gli piace, va bene. Allora, andiamo a mettere il 4, 2, 3, 1, ok, modifichiamo la posizione, andiamo a mettere allora, e quindi mettiamo, esprimasi che non sarà esprimasi, lo mettiamo più avanti, Miranda è un pelino più avanti, un pelino più avanti, gli esterni li mettiamo un pelino più di lato e un pelino più indietro. Vediamo se così riusciamo a utente, vediamo se me la salvo, signori, cambiamo i giocatori. Allora, Bolatta, no, Bolatta per Babangida, poi abbiamo Totti che deve entrare per Espimas, no, perché è più bravo quindi per Ximenes, e poi lo cambiamo con Espimas, e poi cambiamo Totti con Espimas, e poi cambiamo Espimas con Castello. Che cazzarola di incroci terribili! Lo stato diciamo che è buono, a parte quello di Miranda, però va bene. Allora, dobbiamo cambiare Cellini per Borlangen. Direi che ci siamo, signori, la formazione è pronta. Siamo carichi a pallettoni, non ho visto contro chi giochiamo, lo scopriamo subito contro questa M. Velo che è già la terza partita che c'è, che ripeto, sempre lo stesso standard di incontri, e ancora non ho imparato la giusta sequenza di squadre che andiamo a incontrare. Signori, quest'M che è sopra di noi in classifica e che noi dobbiamo superare a tutti i costi. Attenzione, Sinclair, interessante questo giocatore, ci vuol fare una canzone? Forse ce le suonerà di brutto, signori, su quella fascia, non lo so, spero di no. Attenzione, Sinclair, non ce le suona per niente. Pallone per il Bamba, il Bamba che parte su quella fascia, signori, lasciato da solo. Babangida, Babangida, Babangida! Ah, calcio d'angolo, subito così! Li hanno lasciato le praterie a Babangida, signori, è sbagliatissimo. Babangida fa danni se li lasciano le praterie. Attenzione, tutti, 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 a chi cazzo lo lavassi, tutti, ma porca miseria, infame, tutti mio! C'era calcio d'angolo per noi, gli abbiamo creato l'azione da difensiva, è diventata offensiva per loro, Valery, che si inventa qualcosa per gli Orga, Sinclair, però questa volta mette bene il pezzo musicale. Parte su quella fascia! Non mi puoi buttare fuori un giocatore dopo neanche 30 secondi di partita, dai cazzarola, dai cazzarola, porca! Chi ci manca? Il difensore centrale, perfetto, bene, l'altro centrale chi è? Allora, stringiamo lui, e signori, la partita già è messa malissimo, stringiamo i tre in difesa, e la partita si mette malissimo, signori, la partita si mette decisamente male. Non ho intenzione di modificare, sì, fai utente, non ho intenzione di rinunciare alle punte là davanti, non ho la minima intenzione di modificare lo schema di squadra per passare a 4 là dietro, devono riuscire a difendere in 3. Non ci riusciranno? Penso di no! Attenzione, Totti recupera subito il pallone, Totti, 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 fallo, fallo su Totti, spallata irregolare. Chi cazzo ora la passa? A chi cazzo ora la passa? A Valery, a Valery che cerca Vorlangen, 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 Vorlangen! Vorlangen sei alto 2 metri in una quaresima, come fai a cadere come un figo secco per una spallata, dico io? Ah, calcio d'angolo, va bene, va bene. Almeno sul calcio d'angolo dovremmo essere coperti meglio, in teoria, sul calcio d'angolo dovremmo essere coperti meglio rispetto... ok. Castello, Castello, palla per Espimas, che ha un'autostrada davanti a sé. Espimas, 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 guadagna una rimessa laterale, va bene, va bene. Non è cosa che potevamo riuscire... Valery, 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 Valery! Uuuu, Totti! Imbeccata da Valery che cerca Castello, che si gira! Babangita! Ma che cazzo... No, non ci posso credere cosa ci siamo mangiati, signori, non ci posso credere cosa ci siamo mangiati. Babangita, per gli orga, per gli orga... Per Totti! Non ci posso credere cosa ci siamo mangiati, signori, no, 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 è incredibile cosa ci siamo mangiati. È incredibile cosa ci siamo mangiati, signori, è incredibile, io non ci posso credere. Non ci posso proprio credere Proprio assolutamente Pali e contropali Mamma mia Attenzione Totti Castello l'ha presa di testa per Totti Totti che vede per il castello Che castello che vede Babangita Che decide di partire Il Bamba Il Bamba Gli lasciano le praterie L'ha presa di mano Dai l'ha presa di mano L'hanno visto tutti che l'ha presa di mano Ma dai Ma non li puoi Sì se magari eviti di farti girare davanti Non ci posso credere signori Ma cosa ci siamo mangiati Cosa ci siamo mangiati Sinclair fa quello che vuole Bravo bravo Così mi cambia i pulsantini Quando io sto a difendermi Mi cambia i pulsantini Quando io sto a difendermi Fa fuori Sinclair Che cerca Babangita Babangita Mannaggia Paldetta Ambriaca Attenzione Attenzione Sinclair Lasciato completamente solo Siete in due lì Mannaggia A voi Chi non ve lo dice pure Se voi siete in due C'è qualcuno libero in aria Vuol dire Si riesce a girare benissimo Miranda 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 Mannaggia No 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 Signori Ma che cazzo C'avete in testa Di farmi venire l'infarto Totti 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 Vede il Bamba Che ha superato Sinclair Totti Che Attenzione Castello 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 Ma sblocca lui Castello Roma 1 Western 0 Gran gioco di squadra Bravissimo Babangita Che vede Castello nello spazio Rischiosissimo Però Trova 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 uno spigolo Che Non so Quante volte Potrebbe riuscire A ritrovare quello spigolo Però l'ha trovato L'ha trovato E noi va bene questo All'altro lato E noi va bene questo E noi facciamo i buchi Signori Facciamo i buchi in difesa Facciamo i buchi in difesa E sbagliamo i passaggi No 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 Cazzarola No no Attenzione a Sinclair Attenzione a Sinclair Ivanov Lo mette giù Ivanov lo mette giù T'avevo detto di giocarla Dall'altro lato Comunque Va bene Fai tu zio No Ma porca Riusciamo a uscire Un attimo Senza Senza Patemi vari Babangita Riesce a fare fuori Ancora Rancoc Babangita Babangita Questa volta ci prova lui Troppo presto Troppo presto Dove entrare un altro Bocco No Di quanto è uscita Non è uscita di niente Non è uscita di niente Signori Non è uscita di niente Babangita Riesce a tenerla libero Babangita 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 Per Totti 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 Si perde Perde il pallone Totti Totti Buonissimo Questo intervento No 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 Addirittura Ivanov È pagato per fare questo Ovvero Il portiere E lo fa bene Lo fa bene Attenzione Giorga Giorga Babangita È nascosto Ma Riesce ad arrivare Il pallone per lui Babangita 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 Attenzione Babangita 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 Cerca il compagno Valery La mette giù Valery La mette giù Cercato Totti 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 C'è uno spiraglio Ci prova Francesco Totti A cercare l'angolino Sul finale del primo tempo Buono così Signori Buono così Buon gioco di squadra Buon gioco di squadra Attenzione Facciamo l'unica Modifica Che facciamo È mettere Babangita Ora dal lato Nostro Signori Mi dà Mi dà più sicurezza So che su quella fascia La posso lanciare La palla E correre E correre Vinciamo 1-0 Vinciamo 1-0 Cortesemente No Ma non è fallo Mai nella vita Ma che cazzo De fallo è Sinclair Alla battuta Attenzione Grandissimo Vorlangen Imperioso Vorlangen Che poi I compagni di squadra Dormono Vorlangen Fa Fa le peggio cose Tieni la Salva tutto Emanuele Non riusciamo a uscire Dopo 2 minuti 2 stem Che cazzo Rolo è stato Non lo so Pensate La presa di testa io Invece Non l'ho presa di testa io Attenzione Comunque La palla arriva Espimas Espimas Contro Sinclair Espimas Contro Sinclair Espimas Contro Sinclair Al limite Attenzione Calcio d'angolo Va bene Va bene Va bene Va bene così Va bene così Miranda Miranda Per Totti 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 Cerca l'azione Alla babangita Totti Francesco Totti E il pupone Trova il primo gol Con la Roma Grandissima L'azione Alla babangita Si inserisce E poi Scarica un sinistro Che si inzacca in porta 2 a 0 Della Roma Sul West Ham Grandissimo Il gol Del pupone Il primo gol Con la maglia Della Roma Per Francesco Totti Da quando è arrivato Si sblocca Il numero 10 Si sblocca il numero 10 Attenzione ora 2 gol sopra 2 gol sopra Non ci facciamo prendere però Dalle emozioni Attenzione Grande recupero di palla Della Roma Che con Totti Cerca movimento Totti Cerca il castello Vediamo se ci arriva Bello 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 Forse avrei dovuto cercare Non proprio il passaggio No No Che brutto Pallone perso Che brutto Pallone perso Sinclair No Miranda Miranda Per fortuna Graziato Miranda dall'albitro All'undicesimo Roma 2 West Ham 0 Tre punti Importi Che sarebbero importantissimi Signori Da qualsiasi punto di vista Dal punto di vista Della classifica E dal punto di vista Dei punti Per l'acquistare I giocatori Attenzione Valeri Valeri Decide di partire Non decide di Attenzione Grandissima La triangolazione Babangita Che dà uscite Babangita Stava provando Ad andare per via centrali È stato fermato Attenzione Ancora No No Ok Calma Calma Valeri Valeri Mio Mamma mia Quindicesimo Il West Ham Stiamo attenti Perché se la riaprono Soffriamo di brutto Se la riaprono Noi soffriamo di brutto E Valeri Regala un pallone d'oro Ivanov Per fortuna c'è Ivanov Per fortuna c'è Io non la voglio Da lì La voglio Da sulla fascia Perché me la dai Sempre per via centrali Porca miseria Infame Non riusciamo a uscire Signori Non riusciamo a uscire Il West Ham È in superiorità numerica Ricordiamo sempre Che il West Ham È in superiorità numerica E soprattutto Che è Sta 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 Stralero Stralà Le sta Tentando tutte West Ham Le sta tentando tutte Sta spingendo al massimo Sta spingendo al massimo Sta spingendo al massimo Riesce a darla No La deve da per forza centrale Non riesce a darla sulla fascia Non so che problemi abbia Valeri Valeri cerca Babangita Per la sicura No Babangita mio Non ci può mettere Purtuto a perdere Sti palloni Valeri Grandissimo nell'intervento Valeri E' veloce Signori Valeri E' veloce Valeri E' veloce Attenzione West Ham Cross Totti 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 Di Canio Trova il 2 a 1 Di Canio Trova il 2 a 1 Attenzione Di Canio Azione Di goal Sfiorata Per la Roma E il West Ham Trova il goal Goal sbagliato Quando si dice Goal sbagliato Goal subito Signori Ricordiamo che noi Siamo sempre Uno in meno E a questo punto Vi sa che siamo Anche due in meno No Iorga si becca Solo il cartellino giallo Sinclair al trentesimo West Ham ora ci prova di brutto Attenzione, Cecil, Cecil, Cecil No, dai Che cazzarola di passaggi Però dai, Valery, Ivanov esce lui Ivanov esce lui Per mettere un pochino di ordine Ancora, pallone per via centrali Valery, 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 Valery Cercato porl'Hangen Che cerca Babangita Spintonato Buon Bamba Non so a chi darla Vediamo di darla qua dietro Ok, ok, con calma, con calma Jorga, Jorga L'apre tutta da quel lato per Spimas Che vede Francescone Totti Che vede ancora Spimas Che decide di accelerare e di tirare Al trentacinquesimo Ci ha provato, sfortunato però Sfortunatissimo Rinvio del portiere Ancora, il West Ham Che cerca Valery, Valery, Valery Risa la cagata Terribile Attenzione Pallone per Spimas Che decide di fermarsi Spimas Spimas Miranda 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 Vorl'Hangen Vorl'Hangen Totti Totti Mannaggia Cercato Vorl'Hangen 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 Valery No, Valery completamente a vuoto A boe, a boe, a boe, a boe, a boe, a boe La grossa Ivanov In croce al quarantesimo Calcio d'angolo Sofferta questa partita Sofferta Vittoria soffertissima Potrebbe essere una gran vittoria sofferta Di coraggio No, 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 no Totti Cerca Castello Cerca Castello Che ha A Praterie Castello A Praterie Castello Decide di darla a Babangida 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 A 3 a 1 Babangida Contropiede Della Morte Incredibile West Ham Completamente sbilanciato Castello Cerca Babangida Babangida Con il destro La piazza Piano piano Vicino il palo 3 a 1 Della Roma Su West Ham Con l'uomo in meno Signori Con l'uomo in meno Ricordiamoci Questo piccolo particolare Che non è per niente Un piccolo particolare Signori Con l'uomo in meno Attenzione però Attenzione a West Ham Attenzione a West Ham Dove cazzo Non la vai Ivanov Va bene È riuscito a chiudere il quadro Ma se partiva Il pallonetto Erano dolori Se partiva il pallonetto Erano dolori Attenzione al calcio d'angolo Del West Ham Pallone messo fuori Pallone che arriva Babangida 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 Decide di ripartire lui Babangida 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 Se ne va Babangida Se ne va Babangida Minuto di recupero Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba E no Cazzo non la fai Castello Attenzione a Castello 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 ci prova C'è stato un attimo Di indecisione Attenzione Castello 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 Ma che cazzo Va bene così signori Va bene così 3 a 1 Ci portiamo a casa La seconda vittoria consecutiva Dopo quella con la Fiorentina Altri tre punti dentro E buono così Buono così Grande prestazione Grande prestazione In tutto questo Il Il Vasco da Gama Perde contro l'Ajax 3 a 4 Il Parma Parte il Dortmund Quindi altri tre punti Da parte della Roma Ricoperati Sul Dortmund E l'Arsenal Perde contro la Fiorentina Attenzione a sta Fiorentina Che sta un attimo Rompendo le scatole Allora Marcatore Castello Bavangita Per Castello Miranda Per Totti E Castello Per Bavangita Signori Bella partita Una gran Bella partita 3-3 Gollatori diversi Primo gol Del Pupone Sotto La maglia Della Magica Roma E va bene così Siamo contenti Siamo contenti 3 a 1 Che fa morale Fa punti Punti importanti Signori Peccato sul finale Poi Castello Poteva trovare il gol Andiamo 22 punticini 22 punticini Buoni 22 punticini Buoni Va bene Potrebbero essere 23 Ma non ha importanza Ci danno bene Intanto 22 punti Signori Detto questo La classifica Si muove Perché superiamo Il West Ham In classifica Superiamo Il West Ham In classifica Ok E Siamo sempre A 4 punti Dal secondo posto Signori Se la Fiorentina Non si ferma Noi abbiamo Noi non Non ci riusciamo A raggiungere Signori Se la Fiorentina Noi abbiamo Un altro scontro diretto Con la Fiorentina Che potrebbe portarci A 30 33 A guadagnare A un punto Da Fiorentina Ma se loro Non si fermano Noi non riusciamo A recuperarli Tutto questo Abbiamo Riacciuffato Il treno Dell'Arsenal E del Palma Perché siamo lì Se il prossimo episodio Dovessimo riuscire a vincere Comunque Manteniamo la corsa Il Dortmund Non è più A 10 punti Come qualche episodio fa Ma è a 7 punti Quindi comunque Qualcosina La stiamo rosecchiando Anche il Dortmund E va bene Detto questo Io spero Che vi siate divertiti Come mi sono divertito io In questa partita E noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao